Ciao bambini, vedete che alle mie spalle c'è un nuovo disegno, questo verde, dove c'è un coniglietto e qui c'è un cuore con un altro coniglietto. Volete fare i coniglietti insieme a me? È molto facile, seguite il video. Allora, per fare i nostri coniglietti serve i rotoli di scottex, se sono lunghi dite a mamma e papà di tagliarli, non voi, la scotch, la pittura, la tempera, un po' liquida con l'acqua, la tempera e i fogli. Io ne ho presi due colorati ma voi prendete quelli che avete. Per prima cosa dobbiamo fare le orecchie del nostro coniglietto, il coniglietto di orecchie ne ha due. Schiacciamo il cartoncino, lo facciamo proprio piatto, così. Sembra una goccia, vedete? Quindi bisogna farne due orecchie e si attaccano con lo scotch al scottex che rimane tondo. Io l'avevo già preparato ed eccolo qua, vedete? Devono essere la stessa altezza perché poi quando li dobbiamo premere nel foglio devono comparire tutti e tre i pezzi nello stesso momento. Andiamo a mettere un po' di pittura, come vedete io l'avevo già preparato, ma vi faccio vedere. Mettiamo l'acqua con la tempera fucsia io avevo a casa e spennelliamo bene tutti i bordi del nostro rotoli. Prima un orecchio, adesso faccio anche l'altro. Li manteniamo nei belli liquidi, ok? Poi completiamo l'orecchio e adesso facciamo la faccia tonda del nostro coniglietto. Eccoci qua, molto molto bene. Eccola. Quando abbiamo messo il colore dappertutto, prendiamo un foglio, io qui avevo quello verde, giriamo il nostro timbro e schiacciamo forte. Vedete come schiaccio forte io? Addirittura ho piegato i rotolini, ma non è importante perché si possono usare. Eccolo qua il nostro coniglietto. Oh, c'è l'avviso, ci sono le orecchie e adesso a questo visetto gli disegniamo che cosa? Gli occhietti, il naso e la bocca. Quindi prendo il pennarello nero, disegno un occhio, poi disegno l'altro occhio, faccio il nasino e i baffetti del coniglietto. Poi un coniglietto in mezzo al foglio non mi dice niente, allora preparo, prendo il verde e preparo l'erba. Così facciamo finta che il nostro coniglietto sia Easter Bunny, il coniglietto che si nasconde nel giardino per nascondere le uova di Pasqua. Vedete, ho fatto l'erba, adesso facciamo i gambi dei fiorellini e così prepariamo un bel disegno. Ed ecco qui come è uscito alla fine il disegno. Vedete il coniglietto, i fiorellini e tutta l'erba. E questo è un altro coniglietto che io ho fatto in un pezzettino piccolo di carta, rosa, e l'ho attaccato qua, vicino. Così sono due amici coniglietti. Va bene bambini? Spero di vedere tanti disegni fatti con i timbro a coniglietto, Così vi siete divertiti come vi sono divertita io. Ciao, alla prossima!